In guerra, non puoi sempre scegliere chi vive e chi muore. Ciò che puoi fare è stare vicino ai tuoi fratelli. A tutti i costi. Se sei fortunato, tutti ne escono vivi. Avevo una bella squadra, una delle migliori. Eravamo fratelli. Due miglia, non sparate. L'elicotteri preparano la zona. Cazzo di Chavez. Quel tizio era una mina vagante. Aveva dovuto scegliere tra la prigione e l'esercito. E l'idiota aveva scelto l'esercito. Basta leggere, Jokel. Ti stai perdendo la guerra. La guerra è finita, Chavez. 30 secondi, la zona è calda. Oh, signore. Facci sopravvivere. Di neone anche per me, Moses. Prega che non spari per sbaglio a Jokel. E mi dici me. E ci vorrà un intervento dell'altissimo per quello. Forza, gente. Si comincia. Byton 2.5, occhio al fuoco della foretta. A ore una. Il mio lavoro era stare in sella e sparare. Per questo mi chiamavano. Cowboy! Spara qua i bastardi! A occhio, hanno una calibro 50. È un spot casa! Per questo mi chiamavano. Per questo mi chiamavano. In guerra, devi stare vicino ai tuoi fratelli. Nel bene e nel male. E se sei fortunato, tutti ne escono vivi. Per questo mi chiamavano. Per questo mi chiamavano. Per questo mi chiamavano. Numero. Tell me now! Lo chiamavano zero. Zero ready? Che tu big my toy? Sergente. Per favore, cowboy. Più. Sergente! Mi dispiace. Il tuo amico. Mi dispiace tanto. Come cazzo usciamo da qui? Tu capisci che cosa stanno dicendo? C'è una grossa pantera nei dintorni. Vogliono portare il tuo amico nella giungla e lasciarlo lì. Mi dispiace. Bastati. Il tuo elicottero è vicino. E quando vi hanno trovati, bruciava tutto. Ora, vogliamo tornare a vedere. I nostri. Lassù. Rai chung giao? Rai chung giao. Quintaro. Rai chungУ. A manifested. Rai chung. Liar.com! Chia l'radio D. 12 tembos dataeng. O... 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 Oh, merita. Questi non mollano me. Questi non mollano me. Bene, altre caccia. Un elicottero in meno. 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 Grazie a tutti.